E torniamo a parlare di sicurezza lungo le nostre strade e di rilevamento della velocità. Dopo il nostro servizio di due giorni fa, realizzato lungo il tratto stradale della SS36 del lago di Coma e dello Spluga, all'altezza del territorio comunale di Verceia, la Prefettura di Sondrio comunica di avere già avviato un procedimento per la revisione dei decreti prefettizi adottati dal 2002 al 2019. Decreti che, dicono dalla Prefettura, sono stati davvero tanti, susseguitisi nel tempo, a fronte di ogni singola richiesta che veniva avanzata dall'ente proprietario della strada e dal Comune circa la possibilità di introdurre l'utilizzo di macchinari per il rilevamento della velocità. In base a questo, l'avvio di un'istruttoria che prevede da parte degli organi tecnici, come la Polizia Stradale, la verifica di una serie di condizioni, condizioni che sono sintetizzate nella direttiva Minniti del 2017, tuttora in vigore, che prevede non solamente la verifica del tasso di incidentalità stradale, ma anche tutta una serie di condizioni plano-altimetriche, stradali e di termini di volume di traffico. Caratteristiche per le quali, nella fattispecie del caso del tratto stradale in questione, quello di Vercei appunto, la contestazione immediata dell'infrazione al Codice della Strada, ipotesi sollevata dal referente dell'Associazione Nazionale Migliore Tutela, Franco Esposito, nella nostra intervista di due giorni fa, non sarebbe possibile, in quanto non sussistono le condizioni di sicurezza. Le disposizioni messe in atto sul tratto stradale in questione, con una tipologia automatica di rilevazioni della velocità, riferiscono dalla Prefettura, sono già state autorizzate da un vecchio decreto del Prefetto, risalente al 2005, ma è comunque stata avviata, ed è attualmente in corso, una revisione di tutti i tratti stradali della nostra provincia, sui quali è presente una situazione analoga a quella del paese Valchiavennasco. Da Palazzo Muzio tendono inoltre a precisare che Velobox ed Autovelox sono due cose totalmente differenti. Il primo è infatti un mero contenitore all'interno del quale periodicamente viene inserita un'apparecchiatura Autovelox autorizzata dalla Prefettura che pure autorizza la rilevazione automatica. Ma il Velobox, chiamatelo bidone, chiamatelo tubo arancione, viene installato su parere del proprietario della strada ed eventualmente anche dell'organo di polizia. Un'operazione che va naturalmente effettuata in sicurezza e, sappiatelo, non è detto che all'interno del Velobox vi sia sempre piazzato un rilevatore di velocità. Il processo di revisione attualmente in atto da parte della Prefettura prevede che vengano analizzati tutti i parametri, anche perché dal 2005 ad oggi è possibile che le condizioni di traffico siano migliorate e che magari il volume di traffico stesso sia mutato. Non appena ricevuto un parere tecnico dagli organi di polizia stradale, il Prefetto valuterà se convocare una nuova seduta dell'osservatorio per discutere di tutti i tratti stradali coinvolti, attualizzando così una revisione nuova di pacca alla 2023. Certo è che il processo non è dei più semplici ed è reso ulteriormente farraginoso dal fatto che, negli anni, la tipologia di strade in cui possono avvenire i rilevamenti sono aumentate. A questo punto attendiamo nuovi sviluppi.